Abbiamo preparato la partita in questo modo, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla subito bene nei primi minuti, infatti dopo 20-25 eravamo già sul 3-0, quindi la pratica era quasi chiusa. La squadra ha fatto quello che voleva, quello che abbiamo interpretato durante la settimana nella preparazione di questa gara, quindi bene, c'è stata un'interpretazione giusta e un approccio giusto a una partita importante contro una squadra che sappiamo la posizione di classifica, dove aveva necessità a tutti i costi di portare un risultato positivo. Noi cerchiamo di guardare un po' avanti, anche noi cerchiamo i tre punti, l'obiettivo lo abbiamo raggiunto, penso con merito. Possiamo dire, è stato un buon esame di maturità perché molto spesso, soprattutto nelle ultime giornate, le squadre di bassa classifica vendono cara la pella, abbiamo visto il Notaresco che ha lasciato qui tre punti, quindi questa è una nota positiva per voi. Sì, ma è stato un discorso fatto anche da me in settimana ai ragazzi, l'Isenia qui in casa ha tenuto botta al Notaresco, al Matelica, al Reganatesi, quindi squadre importanti, e quindi temevo un po' l'atteggiamento di questa squadra, soprattutto nelle partite casalinghe. I ragazzi sono stati bravi, mentalmente abbiamo avuto un approccio alla gara, quindi bene, c'è stata una lettura e interpretazione giusta fin dai primi minuti. Sicuramente nei minuti finali abbiamo dato spazio a qualche giovane che merita, che fa parte dell'organico, e oggi fortunatamente abbiamo potuto dare spazio a questi ragazzi che stanno lavorando con il nostro gruppo e in preparazione per il futuro, sicuramente ritorneranno utili.